Lei che le fa? Adesso c'è tante coppie Già l'ho vista Perché certo, perché Le fanno tua madre E tua madre se le pica sempre Ma lì su quanti coppie hai? Mamma mia c'ha Quattro coppie A così alto E poi la mamma c'ha C'ha cento Cento e po' quanta due medaglie E non vede il mio? Io l'ho vista E' come la cosa? E' come la cosa? E' come la cosa? grazie Inga! Jenny!